Sulla faccenda della sede unica regionale a Pescara tuona il consigliere regionale DEM, Pierpaolo Petrucci, ma non solo. Tuona anche sulla soppressione di un ufficio regionale all'Aquila, che aumenterà la dotazione invece a Pescara di un'unità. La sede unica, se serve a razionalizzare la faccenda di fitti passivi, va bene, ma Pietrucci vuole vederci chiaro. Un progetto da 20.000 metri quadri. 20.000 metri quadri di costruito nuovo a Pescara, stiamo parlando di milioni di euro di soldi pubblici, che dovrebbe servire a un'esigenza di 10.000 metri quadri, perché gli edifici di via Lebovio e di Passo Lanciano, gli edifici di via Raffaello, sono edifici che occupano 10.000 metri quadri costruiti. Quindi vengono molti dubbi e perplessità, sapendo che non è stata mai pianificata una strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, soprattutto all'Aquila, dove anche noi abbiamo sedi dislocati, dove noi anche paghiamo dei fitti. Per lui c'è un senso di ingiustizia nei confronti dell'Aquila, perpetrato da troppi anni e troppe cose non sono andate bene. Ci sarà un'interrogazione in consiglio regionale, perché Marsiglio dice dovrà risponderne in aula, dalla sede del soccorso alpino a Pescara, al Covid Hospital, passando per la carta degli aiuti, tante le questioni sul piatto per il consigliere e del PD. Sui dipartimenti, aggiunto poi il consigliere, c'è una riorganizzazione dell'assessore Liris e della dottoressa Grimaldi, già consegnata ai sindacati, che prevede che Pescara passi da 6 a 7 uffici, mentre l'Aquila passa da 9 a 8. Gravissime poi le parole, ha detto Pietrucci, del consigliere comunale di Pescara, di Forza Italia, di Pasquale. A parte l'interrogazione che Pietrucci presenterà in modo articolato, ci sarà anche la riproposizione della legge dell'Aquila capoluogo, che sarà rimodulata. Pietrucci si è detto indignato anche per il comportamento di alcuni colleghi, come Sant'Angelo e Liris. In più leggo testualmente da un verbale che è stato fatto nel comune di Pescara, che il consigliere di Pasquale di Forza Italia dice che la sede regionale nuova a Pescara avrebbe l'utilità di evidenziare la preminenza della città di Pescara, del capoluogo pescarese, rispetto all'Aquila. A maggior ragione è fatto che la dottoressa Grimaldi, insieme all'assessore Liris, Aquilano, ne ho eletto anche lui al Senato, se ne è scappato, portano una riorganizzazione degli uffici che l'hanno consegnato ai sindacati, dove si prevede la soppressione di un ufficio all'Aquila e la creazione di un ufficio nuovo a Pescara. Quindi l'Aquila passa da 9 a 8 uffici e Pescara passa da 6 a 7 uffici. Fateci capire dove volete andare, ce lo direte in un'interrogazione, ma così non si gestisce la regione Abruzzo. Fateci capire dove volete andare, ce lo direte in un'interrogazione, ma così non si gestisce la regione Abruzzo.